Inerofer che oltre la diciannovesima posizione, quest'anno non è andato, va a inforcare col braccio ed era ancora decimo, era ancora in decima posizione nella top ten inerofer. Va a finire nelle reti ma abbiamo sentito anche un brutto urlo ed è rimasto giù. Forcato col braccio, braccio e spalla, rimane fermo inerofer, race interrupted chiaramente, gara ferma. Dal primo impatto e dall'urlo più che altro mi preoccupava personalmente il braccio destro, però si è appoggiato su lui, andiamo a rivederlo. Vediamo se ha inforcato col braccio o ha dato proprio in... Ah è entrato strettissimo, ha preso probabilmente una botta sul palo, è entrato troppo stretto, peccato, stava veramente facendo una bella gara. Poteva entrare nelle dieci posizioni, si è rotto il palo. Non ha inforcato per fortuna, perché poi dalla posizione di caduta che era praticamente girato in rotazione, avevo avuto paura forse entrato proprio con i bracci. Ah, nelle reti, si, e poi anche nelle reti prendi sempre delle belle botte. Uuuuh, ho preso in faccia. Vale in faccia, paro rotto. Un po' di sangue per Christoph Inerofer.